Grazie. Siete della Sea Game? Sì, siamo della Sea Game. Salve, buongiorno. Buongiorno. Stiamo facendo delle così, velocissime intervistine. Eccoci. Allora, siamo quasi alla chiusura del Salone Nautico di Puglia. Sì. Finalmente ieri e oggi abbiamo visto un po' di pubblico, peccato il tempo. Però diciamo che abbiamo iniziato a vedere gente che sorride, che è venuta qui a vedere un po' se ci sono delle novità, quindi diciamo che almeno la sensazione degli altri espositori è che sembra che qualcosa cambia. Voi di dove siete? Con chi parlo? Parla con Gabbardella Gianluca, il responsabile commerciale della Sea Game. Noi siamo del Lazio, specificatamente Gaeta. Siamo sicuramente molto contenti di essere stati qui ospiti di questa bellissima manifestazione che sicuramente magari avrebbe potuto dare qualcosa in più se fosse stata pubblicizzata meglio, ma questo magari è il primo anno qui a Bari, quindi sicuramente si deve partire. Diciamo che è una start-up, usiamo questi termini nuovi. Però location molto bella, attrezzata, le persone sono viste, ringraziamo il Signore, e devo dire che il tempo forse c'è anche un po' favorito, non è stato così negativo. Così la gente non è andata a mare e è venuta qui a trovare a noi. Perfetto, perfetto. E quindi siamo contenti. Quindi si potrà ripetere in futuro. Sicuramente sì. Benissimo, benissimo. Vi ringraziamo, mi ha autorizzato a pubblicarlo su Roads of Puglia. Assolutamente sì. E niente, ci risentiamo ed è un arrivederci. Bene, arrivederci.